nei confronti dei minori laddove manca una parte del consenso appunto quello dell'altro genitore e laddove manca il consenso espresso ed esplicito e sottoscritto dal minore di una certa età dai 14 anni in su che ove mancasse mi dispiace ma il consenso dei genitori non è che il luogo proprio perché c'è la convenzione di oviedo che dice questo allora quelle vaccinazioni sono state fatte senza consenso senza consenso e quindi a quel punto almeno l'effetto risarcitorio o indennitario per i danni da lesione o peso da morte sono verificati in tanti casi e di più in percentuale proprio sui giovanissimi quei casi lì ci sarà chi pagherà salato e salatissimo salato e salatissimo purtroppo dal punto di vista penale e c'è lo scudo penale per gli effetti appunto negativi lesivi o mortali che siano stati commessi con colpa come dire non volontariamente da un medico in questo tra l'altro la certificazione del fatto siccome non si sa nulla su questi vaccini sui loro effetti nefasti eccetera nessuno vada a chiedere a denunciare penalmente nessun medico perché non l'ha fatto apposta no lui ha fatto quello che doveva fare in base alla quelle che sono le disposizioni ma se si verifica qualche danno da un canto tu consenti al rischio dall'altro non denunciare il medico perché lui sicuramente non l'ha voluto provocare se ha fatto correttamente l'iniezione questo e quell'altro sarà pure colpa di qualcuno magari dei produttori dei vaccini eccetera però non del medico oltretutto i produttori di vaccini sono si sono già premuniti di esentarsi responsabilità nei contratti di fornitura che hanno firmato con l'europa quindi vedete che il cerino rimane in mano al danneggiato con tanti auguri a chi ha inteso sottostare all'obbligo del vaccino o peggio ancora per chi è corso volontariamente a farselo fare riponendo fiducia in questa scienza che lei per prima ti dice no non sappiamo niente degli effetti né a medio termine a lungo termine